Carissimi amici del GO, buongiorno a tutti, scusate se faccio questo video un po' troppo frettoloso dalla macchina, sto andando a lavoro, tutto per dirvi intanto che mi scuso con voi per la prolungata assenza, ma il tempo è veramente poco, la testimonianza di questo appunto sono costretto a fare un video finché guido, avevo avuto un'idea, visto che per me registrare video di una certa durata è un effort in termini di tempo molto importante e di conseguenza il mio contributo al canale è molto lento, sento che qualcuno di voi, anzi molti di voi adesso che cominciate a seguirmi e a darmi anche dei riscontri, siete assetati di nuove conoscenze, questa cosa mi dà un'estrema soddisfazione, avevo pensato di fare dei video molto corti come delle pillole, dove vado a trattare per pochissimi minuti, 3-5 minuti al massimo, delle tematiche che possono essere interessanti da sviluppare, dove ognuno di noi dopo aver visto il filmato può mettersi lì e magari con uno spunto di riflessione provarlo nelle proprie partite. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e addirittura se volete già cominciare a postarmi sui commenti qualche tema che secondo voi potrebbe essere interessante o che vi farebbe piacere conoscere, se nelle mie conoscenze in quello che conosco io e posso darvi una risposta sarò ben felice di farlo con questa nuova rubrica con le pillole del gol. Dovrebbe essere una cosa molto più rapida da gestire perché con pochi minuti di filmato in teoria si possono sviluppare dei temi interessanti. Grazie ancora per l'attenzione, buona giornata a tutti e ci vediamo al più presto sul mio canale. Arrivederci!